ciao ragazzi sono qui anche oggi con davide che vi presenta ormai lo conoscete vi presenta l'offerta di oggi offertissima davide abbiamo un 35 c 17 un veicolo veramente aggressivo motore 3.000 170 cavalli full optional con un allestimento da ambulante nel senso che a una centinatura con l'apertura da un lato a negozio in modo che si possa vendere la frutta a go go frutta a go go per tutti cosa molto importante veicolo euro 6 anno 2016 ciao a tutti venite a provarlo